Cosa c'è in questo video che stiamo per vedere? Come sapete per due anni abbiamo festeggiato Sant'Agata in emergenza, in lockdown, non ci sono state le processioni né nel 2021 né nel 2022 per ovvie ragioni di sicurezza. Quest'anno si torna per la strada, quindi ci sarà il giro esterno giorno 4 dopo la messa dell'Aurora, il giro interno giorno 5 a partire dal pomeriggio. Io ho recuperato una sintesi che avevo montato proprio per i miei social nel 2020, tratta dalle immagini che abbiamo realizzato con TGS, con l'ultima diretta del 2020, con l'ausilio di Videobank. Ho messo in sottofondo la canzone bellissima di Giuseppe Castigliano e è venuto fuori un video che devo dire è davvero straordinario. Vedrete anche i protagonisti di quella diretta, c'è Vittoria Marletta, Francesco Lamiani, il regista Natale Zennaro. Anzi, li saluto. Vai, vediamola perché c'è questa canzone che è tenerissima. A beneficio di quelli che ci ascoltano in radio, beh, ricordatevi che se volete adesso la sentite, ma se volete guardarla potete guardarla in replica più tardi oppure sul podcast di GDS.it dove trovate tutte le puntate. Agata. Aspetto un anno fino a passiata, ho devozioni e senza diripio, per giorni vengi a piglio a mattinata e quando dal ricocchio sapi Dio. Bello Proteggi tutti i figli sta città A chi di che non campano felici A chi di che non trovano più paci E a cui la cerca intra l'occhio Proteggi tutti i figli sta città A cui non ti può essere vicino A cui ti prea ancora di lontano E spera sempre di tornare in casa Proteggi tutti i figli sta città C'è infili su di e in poco mi guarìa Squaggiava i cirettai a salutare Ma un fuoco un dome cori e pittìa E brucia forti non s'astuta mai Proteggi tutti i figli sta città A tutti i magri e a tutti i picciriti A cui sbagliavo e ancora scappavano E prea ti appino sbagliare più Proteggi tutti i figli sta città A cui diventa vecchio e resta solo E a chi prega oramai non ci so più S'andai tutti i figli sta città E a chi prega oramai non ci so più Ebbè 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 con i fuochi finali che si vedono dal porto di Catania Meraviglioso devo dire un montaggio che racchiude i momenti salienti della festa Momenti importanti ma anche tutti coloro che hanno lavorato durante quella festa Per permettere la fruizione di questa festa anche a persone che purtroppo non possono uscire di casa Come Q diventa vecchio e resta solo no? Come dice la canzone stessa Esatto ma del resto tutte le dirette di Sant'Agata sono sempre dirette di servizio Fatte con devozione Devo dire che mi dispiace un po' non esserci quest'anno Però vabbè bisogna accettare sempre tutto Si va avanti e giorno 6 mattina vi farò questo riassunto Ospite di Buon Mattino su TV 2000